direzione farindola ok ad assaggiare il pecorino di farindola prodotto tipico migliori di ciclomania abbiamo staccato tutti Mario e Ginetti Giuseppe Giusec Giuseppe e Giuseppe 128 battiti diamo un po di dati 65 pedalate a Minuto andatura regolare senza strappi In modo da permettere anche meno allenati di... Vediamo pure il morto qua dietro. L'ha detto lui, eh. Sta arrivando. Andatura tranquilla. In che senso, scusa? Fregorino a questo punto allora diventa determinante per risuscitare i morti. Guarda gli sgressi lo voglio. Beh ma che te lo riporti a casa? Ti dà la carica? Eh sì. Ma non lo so. Questa è lo citavo. È una volta che non ti lo so. Questa è una volta che non sono lì. Cosa? 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 Are you in? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water Neat the Mexican sky Drink some margaritas Bye! Wow, eh? Listen to the Mari at you play at midnight Are you with me? Are you with me? Come on Come on, come on, come on Come on, come on Come on Come on Come on Come on Are you with me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky Drink some margaritas by slow the blue light Listen to the Mari at you play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky Drink some margaritas by slow the blue light Listen to the Mari at you play at midnight Are you with me? Are you with me? Are you with me?